Con il sindaco di Villa Celiera Domenico Vespa, innanzitutto comune che abbiamo imparato a conoscere perché quasi uno asi felice, zero contagi accertati fino adesso, intanto come la situazione e come si sta evolvendo sul suo comune? Come dicevi la situazione fino adesso è tranquilla, siamo non soddisfatti ma soddisfattissimi, non abbiamo contagi al momento e questo penso sia soprattutto esclusivamente merito della nostra cittadinanza, ma anche certamente all'amministrazione che è stata molto attenta, impegnandosi quotidianamente nella disinvestazione, cercando di diffondere sempre con l'altoparlante notizie per invitare i cittadini a rimanere dentro casa, a rispettare le restrizioni, abbiamo assicurato soprattutto noi tramite la protezione civile, la Pivec, le consegne nelle varie famiglie, a parte dei dispositivi di sicurezza ma anche le spese alimentari, tutto proprio per cercare di ridurre al minimo le persone in strada. Il sindaco Vespa ha poi commentato con un pizzico di preoccupazione la nuova ordinanza del presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, il quale dopo aver letto la relazione epidemiologica della ASL non ha prorogato la zona rossa per i cinque comuni dell'area vestina. Ma innanzitutto la cosa che a noi preoccupa di più è già da un punto di vista psicologico, perché già oggi si percepiva un'aria diversa, addirittura sembrava quasi che fosse finita l'emergenza, e invece non è assolutamente così, ma soprattutto anzi dobbiamo essere molto più attenti adesso, e io ripeto non mi stancherò mai di ripeterlo, non dobbiamo abbassare la guardia per non vanificare tutto il grande sforzo che abbiamo fatto finora. Quella che preoccupa di più è stata la revoca di Civitella Casanova, perché Civitella Casanova ci sono diversi in tantissimi casi, ma soprattutto ci sono molte persone in attesa di tamponi. Abbiamo delle frazioni proprio limite, attaccate a Civitella, Casanova, i cittadini di Vestea usufruiscono dell'ufficio postale di Villa Cegliere, quindi comunque c'è un rischio maggiore, a cui naturalmente adesso siamo esposti. Non condivido la scelta della regione Abruzzo, a parte il fatto che la regione Abruzzo aveva promesso addirittura tamponi a tappeto su tutta l'area in queste zone rosse e non sono state fatte, ma in particolar modo anche nella zona di Civitella Casanova, e questo veramente è grave, perché ripeto, tra 15 giorni fa e addosso la situazione è soltanto peggiorata. Ci sono persone che sono state sottoposte a tamponi a fine marzo, noi a oggi non ci sono ancora i risultati, quindi nel caso ad esempio se si trattassero di persone che comunque svolgono un ruolo in ospedali, ruoli sanitari, cioè in 20 giorni avrebbero causato veramente una pandemia, quindi la situazione è veramente grave.